Abbiamo visto l'importante introduzione sulla liquidazione quarta amministrativa. Adesso dobbiamo andare a vedere la procedura e la prima cosa importantissima da andare a vedere sono i rapporti fra tribunale e organo amministrativo, o se volete, fra liquidazione giudiziale e liquidazione quarta amministrativa. Allora partiamo, è un discorso che va ben scalato, partiamo dalla prima situazione. Ci possono essere imprese che sono sottoponibili sia alla liquidazione quarta amministrativa sia alla liquidazione giudiziale. È possibile una cosa di questo tipo. Bene, allora se sono sottoponibili a tutte e due, quale si applicherà? La liquidazione giudiziale o la liquidazione quarta amministrativa? È facile, quella iniziata per prima. Quindi se inizia prima la liquidazione giudiziale,